Ben trovati, vi ringrazio perché so che siete sempre in molti a visualizzare le lezioni che gli insegnanti realizzano e che poi la presidenza Utes e tutto il suo staff riescono a caricare nel canale YouTube, quindi grazie davvero. Oggi vi parlerò di un altro importante ritratto di Raffaello, forse il più affascinante e misterioso insieme a quello della fornarina, la velata di Palazzo Pitti e ho deciso di iniziare questo incontro utilizzando una poesia che Dario Faux e Fran Carame scrissero in occasione della presentazione nei principali tattitaliani di un evento in onore appunto di Raffaello cinque anni fa, nel 2015, e il primo verso della poesia è anche il titolo di un libro pubblicato da Dario Faux ed era anche il titolo di tutto l'evento organizzato. E il Dario Faux immagina come sotto Palazzo Raffaello, Palazzo Caprini che poi divenne Palazzo Raffaello quando Raffaello vi si trasferì nel 1517, sorgeva, oggi non esiste più, fu distrutto nel 1938 per far spazio all'ampliamento della strada, sorgeva in un angolo fra piazza Scossa Cavalli e via Alessandrini. E appunto Dario Faux immagina come durante il periodo del carnevale, il martedì del carnevale, l'unico periodo dell'anno in cui la chiesa permetteva alle donne smarritate di girare liberamente per Roma mettendosi mostra con le sue, con le proprie maschere, perché poi iniziava la quaresima, quindi il tempo del perdono, dell'espiazione dei peccati, immagina appunto che un carro di smarritate passasse sotto Palazzo Raffaello e cercasse di attirare l'attenzione del divin pittore, sperando che potesse ascoltare questa poesia e magari scegliere qualche musa da immortalare in un suo ritratto o magari consumare con lei una notte di passione. Vero è che appunto sono due i grandi amori di Raffaello, sono stati due, l'arte sicuramente, e beh la conosciamo, ma sicuramente, ma anche le donne. Un aspetto forse tenuto nell'ombra, nascosto anche per questo alone che fa sì che Raffaello sia una sorta di nuovo dio in terra, una sorta di divinizzazione, il fatto che probabilmente sia nato di venerdì santo e morto di venerdì santo, il fatto di essere stato il pittore di numerosi pontefici, il fatto di aver affrescato le stanze del palazzo privato del papa, sicuramente hanno fatto sì che la parte più passionale sia stata messa in un angolo, invece negli ultimi anni sta ritornando di nuovo in auge come probabilmente è dovuta a questa sua forte passione, la causa della sua morte. Scrive appunto Dario Fo, bello figliolo che tu sei Raffaello, come te muovi appresso all'upapa quando sorte a passeggiare, tu sei l'agnolo Gabriele, illo pare lo tuo cameriere, dolce creatura, costo corpo tuo che pare in danza, come me vorrei arotolar con te panza a panza dentro l'uvento, appesa le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Raffaello, metti me d'inde la tua pittura dove ce stanno ritratto de te tutto intiero, così de notte ce se potrebbe cercà e infrattati nello scuro facce l'amore. Se non me vuoi amà, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura, meglio morì se non so tua. Questa poesia scritta appunto da Dario Fo, possiamo metterla in relazione con ben sei sonetti che Raffaello scrisse dedicati appunto al tema dell'amore, tenuti nascosti dallo stesso pittore perché sono stati scritti nei versi e nei recti dei suoi disegni preparatori, ad esempio sono state ritrovate frammenti di queste poesie addirittura nello studio preparatorio della disputa del sacramento, 1508-1509, in cui appunto il pittore parla dell'amore, un amore spesso non solo idealista, non solo platonico, ma un amore anche che ha dei risvolti passionali, carnali, ma che Raffaello cerca sempre di tenere nascosto e invita la sua amante a tenere nascosto. Vi ho inserito il primo sonetto di Raffaello in cui egli si rivolge direttamente ad amore e scrive ad amore che è stato inebriato, è stato strutto dagli occhi definiti come lumi della sua amata, dal bianco della sua pelle, bianco candido, dal color rosaceo dei suoi lineamenti, dal suo bel parlare, dai suoi nobili costumi, è tanto scosso, è tanto preso dal fuoco all'interno del suo corpo che neanche l'acqua del mare e dei fiumi riuscirebbe a placarlo. Amor, tu me mencasti codolumi degli occhi dove io me struggo e sface, da biancaneve e da rose vivace, da un bel parlare e da onesti costumi, tanto che tanto ardo che né mar né fiumi spegner potria quel fuoco che ma piace, poiché il mio ardor tanto di ben mi face, cardendo ognor più d'arder mi consumi. Quanto fu dolce il gioco e la catena dei suoi candidi braci al mio colvolti, che sciogliendomi io sento mortal pena. D'altre cose non dico, che so molti, che soperchia dolcezza a morte mena, e perciò, e però taccio, a te i pensieri volti. Avvicinandoci al ritratto della velata vi ho anche inserito un passaggio che scrive Giorgio Vasari nell'edizione del 1568 delle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, in riferimento al ritratto della velata. Scrive appunto Giorgio Vasari fece poi Marco Antonio per Raffaello un numero di stampe, le quali Raffaello donò poi al Baviera suo garzone che aveva cura ad una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte, e di quella e di quella fece un ritratto bellissimo che pareva viva viva, il quale è oggi in Florenza, appresso il gentilissimo Matteo Botti, mercante fiorentino, amico e familiare di ogni persona virtuosa e massimamente dei pittori, tenuta da lui come reliquia per l'amore che gli porta all'arte e particolarmente a Raffaello. Ecco, leggendo questo passo di Vasari, innanzitutto fa riferimento a Marco Antonio Raimondi, celebre incisore del Rinascimento, grazie alla quale attività, molte opere di Raffaello furono divulgate, grazie appunto al suo bulino e alle sue incisioni sul rame. E tra le tante incisioni fatti evidentemente ne fece anche tante di questa velata, di questo ritratto bellissimo, di questa donna che pareva viva viva. E uno di queste stampe Raffaello decide di regalarle ad un suo garzone, Baviera si chiama, ora non sappiamo se il nome è dettato dalle sue origini tedesche, ma sappiamo che a questo garzone Raffaello aveva affidato la sua amata. E sappiamo che nel 1568 il dipinto si trovava già a Firenze, all'interno della collezione di Matteo Botti, un mercante fiorentino, amico di molti pittori, e proprio per l'amore che provava nei confronti di Raffaello tenne questo quadro come una reliquia, almeno fino all'inizio del 1600, quando nel 1619 fu appunto venduto alla famiglia Medici e dal 1622 è esposto a Palazzo Pitti. Entrò a Palazzo Pitti nell'archivio è scritto, dicono di mano di Raffaello di Urbino, questa probabilità, non certezza, ha fatto sì che l'opera per circa due secoli fu considerata un'opera di bottega. E soltanto nel 1839, a seguito di un attento restauro, lo storico dell'arte tedesco Johann David Passamant la riattribuì, la reinserì nel catalogo del divin pittore, avvicinandola ai volto della Madonna Sistina di Dresda e ai volti di alcune sibille dell'affresco di Santa Maria della Pace a Roma, appunto, di Raffaello. Eccola qui. Sono state date diverse attribuzioni, diverse datazioni a quest'opera. Oggi i storici dell'arte concordano nel datare l'opera intorno al 1512-1513. Qualcuno appunto ha riconosciuto il volto della Madonna Sistina, altri abbiamo detto le sibille della chiesa dell'affresco della chiesa di Santa Maria della Pace a Roma, qualcuno, molti, la fornarina della galleria Barberini. Qualcuno ritiene invece che sia semplicemente la rappresentazione della bellezza e della grazia, frutto forse di una meditazione da parte di Raffaello di alcuni dipinti di belle donne realizzate in ambito veneto, soprattutto dopo gli anni 10 del 1500. Vi ho messo ad esempio tre capolavori, la Venere dormiente di Giorgione, realizzata intorno al 1511-12, conservata oggi a Dresda, la Ninfa Lotis nel Festino degli Dei di Giovanni Bellini del 1514, stesso anno dell'ultima opera di Bellini, Giovane Donna, Nuda allo specchio, sempre del 1514. Certo che la capacità che ha Raffaello di rendere nel ritratto un'immagine che al tempo stesso è sublimata e concreta non fa altro che aumentare l'ambivalenza di questo dipinto, la straordinarietà di questo dipinto. Possiamo sicuramente scorgere un'idealizzazione della fisionomia, ad esempio nella costruzione del volto, con queste forme ovali e arrotondate. E' altresì vero che però se osserviamo il lobo dell'orecchio sinistro, a differenza ad esempio della fornarina, qui è attaccato alla guancia. Ci lascia appunto pensare che potesse essere un ritratto dal vivo. Inoltre le vesti sinuose della effigiata, sicuramente un abito non popolano, il velo che era riservato alle donne sposate con figli, lo stesso gesto della mano sul cuore, tipico delle fidanzate e delle mogli, farebbero escludere che la donna di Palazzo Pitti, la velata, possa essere la stessa di Palazzo Barberini. Vero è comunque che il carattere privato dell'opera possa avere spinto lo stesso Raffaello a realizzare un pegno di profonda devozione d'amore e quindi una celebrazione che Raffaello fa della sua amante. L'amore che provava per le donne sicuramente non poteva essere imbrigliato dentro a canoni prestabiliti e quindi ciò porta alla realizzazione di un'opera sconvolgente, coinvolgente al tempo stesso. Il fascino che lui prova per la sua modella riesce a farlo emergere in questo splendido capolavoro. Le indagini riflettografiche a cui è stata sottoposta l'opera hanno messo in luce degli elementi. Ad esempio il fatto che inizialmente il velo copriva completamente il volto. Inizialmente la manica e il braccio sinistro non era così in avanti come lo vediamo oggi. Il fatto di aver spostato il braccio sinistro così in avanti e con questa veste così pomposa, animata, quasi baroccheggiante, ha fatto sì che lo sviluppo dell'opera da un senso verticale si estendesse in senso orizzontale guadagnandone in larghezza e aumenta sicuramente la monumentalità dell'effigiata, ancora di più della Madonna Sistina che vedevamo nel nostro ultimo incontro, ancora più comunicativa della Madonna Sistina. Raffaello appunto sfrutta la manica sinistra probabilmente appoggiato il braccio su una cornice attraverso questo rigonfiamento della seta, estremamente realistico, ben fatto, immortalato per indurre proprio il nostro sguardo sul busto e sul volto della donna. Ma al tempo stesso la manica che il braccio ci tiene a distanza. È la stessa impostazione che poi utilizzerà tre anni più tardi per il ritratto di Baldassar Castiglione, stessa identica impostazione. Forse un'intuizione che Raffaello riprende dall'osservazione, ad esempio ecco appunto la Madonna Sistina, la velata e la narina. Dicevo appunto un'impostazione che forse Raffaello prende osservando la gioconda di Raffaello durante il suo soggiorno fiorentino, quando Leonardo di ritorno dal ventennio passato a Milano inizia probabilmente a mettere mano alla tela. Ma sicuramente si rifà anche alla Dorotea di Sebastiano del Piombo del 1512, degli stessi anni, anzi la Dorotea per tanti anni è stata attribuita a Raffaello stesso. La manica sinistra spinta in avanti è sicuramente una delle cose più affascinanti di questo capolavoro. Con questa decorazione, queste pieghe così profonde, così sinuose, che sembrano rincorresi in un certo qual senso. Con questa bordatura luminosa dell'oro, un dipinto sicuramente meditato, pensato, vissuto dallo stesso pittore, che tra l'altro non è stato trasportato dal cartone ma è stato direttamente realizzato sulla tela. Infatti sono stati riscontrati dei pentimenti sulla tela stessa. Il gesto della mano che si volge verso il petto Raffaello probabilmente lo prende dalla venus pudica ossia dalle rappresentazioni classiche di Venere che appunto si copre le parti intime ponendo anche la mano sul seno. Però è altrettanto vero che notiamo un velo nell'opera di Raffaello che sembra che stia per cadere, la manica che sembra che stia per scendere dalla spalla, una veste sbottonata come se volesse coprirsi o fa scendere completamente la veste, quel corpetto serrato che vediamo accanto nella famosa Maddalena Doni di Raffaello ben abbottonato e nella velata non c'è più. Anzi, sembra slacciarsi, sembra slacciarsi per liberare il seno che è coperto da una camicetta che è già parecchio in disordine. Attorno a lei poi non ci sono quel meraviglioso paesaggio che si perde nell'infinito leonardesco o del primo Raffaello come appunto la Maddalena Doni del 1506. No, dietro la velata si sviluppa una cortina bruna. La figura in primo piano si mette in rapporto con noi, beh, guarda verso lo spettatore, lo fissa negli occhi e il retro mette ancora più in primo piano come se fosse il faro di una quinta scenica il volto della donna. Una cosa molto interessante in quest'opera è sicuramente il rapporto di Raffaello con i gioielli. Torno un attimo indietro. Un rapporto precoce perché Raffaello geneta giovanile abbiamo prova nei suoi capolavori di come riesca ad utilizzare i gioielli per rappresentare la personalità della persona effigiata. Lo fa per esempio nella rappresentazione di Maddalena Gonzaga, la vedete lì nella terza posizione accanto alla Maddalena Doni, lo fa nella Maddalena Doni, lo fa nella Dama degli Ocorno e lo fa nella velata. Utilizzando nella velata una collana di derivazione classica, questa per esempio è una collana in oro e in graniti della metà del primo secolo d.C., che è stata ritrovata in una tomba ammentana, in un sepolcro, in un corredo funebre di una fanciulla, conservata nel Museo Nazionale di Roma ed è stata fortitamente trovata nel 1954 a seguito degli scavi. Ecco, questa collana con oro e granati cabochon la ritroviamo appunto anche nella velata. L'oro e granati, il granato è una pietra preziosa tra le più comuni, un materiale solare, un materiale che esprime allegria e generosità e ancora una volta appunto Raffaello sorprende perché utilizza i gioielli proprio per rappresentare la personalità dei suoi personaggi e lo fa anche negli altri capolavori. Anche nella Dama con il mio corno vi è un meraviglioso munile, una perla che ritroviamo anche nella nella velata, che indosso un meraviglioso munile attaccato ad un pendente d'oro, appoggiato appunto sul capo, forse un po' fuori moda, e non lo porta al collo come la Dama del Gliocorno, bensì lo porta come la fornarina della Galleria Barberini. Si tratta di un rubino con un diamante e una perla. Il diamante rappresenta la tenacia, essendo la più dura delle pietre appunto rappresenta quest'amore tenace della donna raffigurata. La perla invece è tradizionalmente simbolo di castità, inoltre la perla è messa in contrasto con il bruno appunto dei capelli, quindi si dà assolutamente risalto a questa perla, molto evidente, come se Raffaello l'avesse voluta mettere in evidenza, la perla simbolo di castità, simbolo di candore. E siccome nei lapidari la perla veniva chiamata margarita, ecco se questo dico termine latino con il quale si indicava appunto la perla, e il fatto che la sua posizione non è indifferente ma viene messa in risalto, ha spinto gli storici dell'arte ad ipotizzare che la donna effigiata nella velata sia appunto la storica amante del pittore Urbinate, Margherita Luti, che è la donna effigiata poi anche nel ritratto della fornarina. E quindi in virtù di questo particolare, ecco che entrambe i dipinti potrebbe rappresentare la stessa donna. Grazie. Grazie.